L'Ele Mora va a convivere con ex tronista di uomini e donne. Ecco chi è il ragazzo. L'imprenditore L'Ele Mora, dopo aver avuto problemi giudiziari, è ritornato ad essere l'agente dei VIP. Si è venuto a scoprire che L'Ele è andato a convivere con un giovane ragazzo, ex tronista di uomini e donne. Ecco di chi si tratta. A rivelare la notizia è il settimanale oggi. L'Ele Mora è conosciuto per essere stato il manager dei VIP e per essere implicato in diversi reati, tra i quali favoreggiamento alla prostituzione, bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale. L'Ele, all'epoca dei fatti, venne condannato a scontare una pena di sei anni e sei mesi di reclusione, periodo che però venne trascorso presso la comunità Exodus di Don Mazzi. Ora l'imprenditore sta risalendo la china e ha ricominciato a lavorare. A quanto pare, ora è il manager di Simona Ventura. Mora ora è andato a convivere con un ex tronista di uomini e donne. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ebbene, lui è Alessio Lopasso, il tronista corteggiato da Selvaggia Roma. Il ragazzo è balzato recentemente nelle notizie di cronaca per essere finito in manette con l'accusa di estorsione ai danni di un chirurgo plastico. Lopasso, una volta uscito dal carcere, si è fatto intervistare dalla rivista Soprecitata e ha riferito le seguenti parole. Sono finito dentro perché non mi sono presentato il giorno del processo. Non sapevo nulla, né che mi avessero denunciato, né che ci fosse un processo a mio carico. Non ho ricevuto nessuna notifica al mio domicilio, né alla residenza dei miei. Nessun avviso dall'avvocato d'ufficio assegnato. Questo ha raccontato qualche settimana fa Alessio alla rivista. È falso che avrei chiuso il medico nello studio e l'avrei minacciato. Volevo riavere i soldi più un risarcimento per affrontare gli interventi riparatori dei danni che aveva causato a me e alla mia ragazza e anche quelli legati alla mia immagine. Ora Alessio Lopasso è andato a vivere nella casa milanese di Lele Mora e stando a quanto si mormora in giro, pare che i due siano davvero inseparabili. Inoltre, grazie a questo rapporto, l'extronista potrà presto tornare nei programmi Mediaset. Credete che con i soldi si possa ottenere tutto? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.